Il consorzio obbligatorio degli oli usati torna a Napoli in Piazza Dante con la campagna educativa itinerante Circoliamo. 7.270 tonnellate di oli lubrificati usati raccolte nella provincia di Napoli nel solo 2014 su un totale di 11.950 recuperate nella regione Campania. Questi dati resi noti dal consorzio nella conferenza stampa a cui è preso parte anche il vice sindaco di Napoli Raffaele del Giudice. Ascoltiamolo. È un giorno importante perché c'è una sinergia tra la partecipata del Comune di Napoli, l'Asia, il Comune di Napoli e l'assessorato e il consorzio della raccolta degli oli esausti lubrificanti. È molto importante perché questo consorzio negli anni ha dimostrato come si riesce a recuperare l'intera filiera dell'olio di scalto dei lubrificanti e noi come Asia stamattina insieme al Comune riusciamo a mettere in piedi i tre punti di raccolta di questa parte di oli magari con qualche privato che fa il cambio d'olio eccetera è possibile portarlo finalmente nelle tre nuove isole ecologiche del Comune di Napoli. È fondamentale non buttare nemmeno un piccolo residuo di olio lubrificante esausto nel terreno, nelle falde, è fondamentale. Il messaggio è che noi ce la stiamo mettendo tutta, qualche buon risultato arriva, basta un piccolo gesto anche dall'altra parte. Nel corso dell'incontro presso il villaggio Circoliamo sono state presentate le tre nuove isole ecologiche per il conferimento degli oli usati, in via Severio Gatto, in via Salgari ed in Viale della Resistenza. Grande affluenza di pubblico e delle scolaresche che sono il nostro domani, commenta il presidente del consorzio degli oli usati Paolo Tomasi. Dietro le nostre spalle ci sono dei gonfiabili all'interno dei quali ci sono delle scolaresche alle quali stiamo dando una pillola di formazione ambientale. Ebbene io ho sentito questi bambini molto interessati, tra l'altro lo spot che mandiamo è un cartone animato molto carino, molto invitante, che suscita però delle domande e dei problemi e questi ragazzi parlando di questo evidentemente sono coinvolti in un'attività che poi diventerà, una volta portata a casa, anche una comunicazione diretta con i genitori per esempio, con i nonni.